6. Indagati per falso in concorso. L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, l'ex dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Maria Letizia Diliberti. Il direttore del servizio 4 del DASO è Mario Palermo. Salvatore Cusimano, dipendente all'assessorato regionale all'industria, nipote di Diliberti, è da lei chiamato a lavorare al suo fianco. Per Emilio Madonia, dipendente di una società privata che si occupava della gestione del flusso dei dati sul Covid, Roberto Gambino, dipendente dell'ASP di Palermo e distaccato al DASOE. Per Laldi Diliberti e Madonia c'è anche la contestazione di avere indotto in errore il Ministero della Salute attraverso la comunicazione dei dati falsi sull'emergenza pandemica. Secondo l'accusa, sulle piattaforme informatiche regionali e ministeriali nei mesi scorsi sarebbero stati caricati dati falsi sul monitoraggio dell'epidemia Covid in Sicilia. Alla luce delle errate comunicazioni inviate dalla Regione, il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità classificarono la Sicilia a rischio basso e non moderato nella settimana dal 14 al 20 dicembre. Sono cadute invece le contestazioni relative ai dati falsi sui decessi in quanto prive di rilievo penale. Quando fu pubblicata la notizia dell'apertura dell'inchiesta, fece molto scalpore la frase dell'assessore Razza intercettato mentre consigliava di spalmare nei giorni i dati sui morti di Covid. L'assessore, travolto alle polemiche, si scusò ammettendo che era stata una frase infelice. Gli indagati potranno presentare memorie difensive e chiedere di essere interrogati. La conclusione dell'indagine precede in genere la richiesta di rinvio a giudizio.